Padre Agostino nel suo diario riporta i fatti salienti della vita di Padre Pio e in modo particolare ci riporta che Padre Pio all'età di cinque anni già aveva l'apparizione della Madonna fatto grande ma grande proprio sacerdote parlando con Padre Agostino Padre Agostino gli dice ma perché non mi hai riferito che tu vedevi la Madonna eccetera e Padre Pio ma non c'era bisogno perché la Madonna la vedono tutti Padre Pio era convinto che l'apparizione della Madonna non era sola per lui ma anche per Padre Agostino e per tutti i cristiani e questo però ci dice un'attenzione spirituale di Padre Pio senza piccolo di fatti fanciullo andando a pascolo con le due tre pecorelle col suo compagno di pascolo faceva le processioni e quindi portavano in processione una croce fatta da loro e nello stesso tempo cantavano lungo il prato a squarciagola naturalmente Padre Pio aveva tutto il gusto di cantare i canti religiosi e mentre il suo compagno partecipava alla processione in atto penitenziale perché proprio non aveva nessuna voglia di quel tipo di gioco questo un quadretto di padre Pio ragazzo oggi noi questa vita non possiamo più viverla perché non siamo più piccoli e i piccoli di oggi non vanno più queste processioni è cambiato lo stile di vita e allora qual è lo stile di vita nostra vivere la propria fede essere responsabili di quello in cui noi ci troviamo oggi abbiamo la riflessione su una citazione di vita di Padre Pio piccolo anticipazione di quanto avrebbe vissuto poi da grande come svegliarino c'è il profeta Giovanni Battista che ci avverte come un giorno al fiume Giordano c'è in mezzo a voi qualcuno che non conoscete questa frase e dopo tanti secoli viene ripresentata a noi che ugualmente non ci accorgiamo che Gesù Cristo è con noi per 30 anni Gesù vive nell'ambiente del piccolo villaggio della Palestina a Nazareth la gente l'aveva incontrata alla sinagoga l'aveva incontrata nella sua officina piccola officina di falegname Fabro Ferraio un po' far tutto e lo salutavano lo incontravano per la strada tutti lo stimavano ma che fosse il figlio di Dio che fosse il Messia nessuno lo conosceva ci lamentiamo noi che Dio sta lontano da noi e ci viene da esclamare se Dio fosse con noi certamente cambieremo stile di vita impegnati di più sul lavoro nella educazione di figli nella messa domenicale a sua volta Gesù ci dice sono con voi tutti i giorni e tutti a tutti gli altri uomini in ogni povero sono sempre presente in mezzo a voi Gesù è sempre lo stesso si rassomiglia a tutti gli altri uomini è in ogni povero dobbiamo credere che sotto le apparenze umane c'è Dio che ci parla che ci incoraggia ci rimprovera perché perché ci ama il padre papà buono è colui che loda gratifica i figli l'ingoraggia ma se necessario alza anche la voce e allora ecco il comportamento di Dio padre con noi nella santa messa recitiamo il credo e diciamo si è fatto uomo si è fatto uomo amico sul povero in famiglia nel campo sportivo nell'ospedale nel carcere ci sono i luoghi in cui Gesù vuole rendere visibile la sua persona ogni uomo Dio vive e aspetta di essere riconosciuto per vivere insieme i giorni tristi e quelli religiosi e quelli gioiosi qual è qual è la moglie che vede Dio nel suo marito non è possibile solo i difetti e qualche preghiera San Paolo però dice mogli rispettate i vostri mariti come se fossero il Signore e i mariti vedono Gesù nella propria moglie San Paolo ancora dice mariti amate le vostre moglie come Cristo ama la Chiesa su ogni uomo Dio vive e aspetta di essere riconosciuto per vivere insieme i giorni tristi e quelli di gioia e serenità